Si concluderà oggi la terza edizione consecutiva di Sant'Antonio va per mare nel quartiere Fesca San Girolamo di Bari. Stasera alle 17.30 si svolgerà la processione della statua per le vie del quartiere, alle 21.30 i fuochi d'artificio. La tradizionale festa sulla terraferma interrotta negli anni 60 e ripresa negli anni 80 è molto sentita dai residenti del quartiere periferico barese anche perché il legame tra i fedeli e il santo è davvero forte. Ieri spazio alle celebrazioni religiose previste anche per la festa della Madonna dell'Assunta e allo spettacolo della cover band di Bisbetici Domati. La statua del santo è stata in mare per oltre un'ora ed il lungomare si è popolato di residenti e turisti in attesa di assistere allo sbarco e dalla processione. In centinaia hanno applaudito l'arrivo del santo. Il comitato Feste Sant'Antonio ed il rimessaggio Nuova Marina e Ideascavi non hanno lasciato nulla al caso ed i festeggiamenti che quest'anno sono iniziati il 14 e termineranno stasera prevedono non solo momenti liturgici. Naturalmente appuntamento confermato per l'anno prossimo.